Khalidou Koulibaly, difensore senegalese di 33 anni, sta cercando di tornare nel calcio europeo dopo un periodo all'Ali Ilal in Arabia Saudita. Secondo le informazioni del quotidiano italiano La Gazzetta dello Sport, diversi club europei sono interessati al ritorno dell'atleta, noto per le sue solide prestazioni e l'esperienza nelle principali competizioni. Il Napoli, dove Koulibaly ha avuto un periodo impressionante prima del suo passaggio all'Ali Ilal, è uno dei club che ha mostrato interesse. Il giocatore non ha escluso la possibilità di un ritorno in nazionale, che rappresenta ancora un capitolo caro alla sua carriera. Un possibile ricongiungimento con il Napoli sarebbe un momento cluvisto e il successo di Koulibaly nel suo primo periodo al club. Oltre al Napoli, anche altre squadre europee tengono d'occhio Koulibaly, attratte dalla sua esperienza e qualità difensiva. La prospettiva di un ritorno sulla scena europea ha generato speculazioni aspettative sia nei club che negli appassionati di calcio. La decisione definitiva di Koulibaly sul suo futuro deve ancora arrivare, ma la voglia di tornare a giocare in Europa sembra essere al momento l'obiettivo principale del giocatore. Monitorare l'evolversi di questa situazione sarà fondamentale per capire quale sarà il prossimo capitolo della carriera di uno dei difensori più stimati del calcio mondiale.